Carissimi amici, è arrivato per il YouTube e oggi saremo nella serie di Ice Cream Perché finalmente oggi cercheremo di scoprire che cosa si nasconde all'interno del frigorifero segreto di Ice Cream 6 Il nuovo capitolo in arrivo Infatti dalle prime immagini che sono uscite dal prossimo capitolo Possiamo vedere appunto un frigorifero Ma lì dentro cosa ci sarà? Ci sarà un passaggio segreto? Un oggetto segreto? Cercheremo di scoprirlo qua in questo video Ma come sempre, mi raccomando Lasciate qui sotto tantissimi like per aiutarmi a supportare la serie Se like che lasciate sarà pari Il personaggio segreto a voi sarà Joseph, il padre di Rod Se vi c'è like sarà Despera Il personaggio segreto a voi sarà il gattino di Ice Cream 2 Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati E se vi piacciono questi tipi di video, mi raccomando Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Anche perché qua faccio ben due video al giorno Doppio divertimento, doppio video Ma adesso partiamo subito Cominciamo, tocchiamo subito gioca E facciamo sempre gioca Allora, per fare questo video mi servirò anche della mod di Outfit Però c'è una mod disponibile per tutti Che è quella di Cyber Hacker Tanti di voi mi hanno chiesto Parino, ci fa il video tutorial su come scaricare e installare questa mod? Allora, purtroppo come ben sapete Non posso fare il video tutorial su YouTube Per una questione di regolamento No, cioè ci sono dei regolamenti su YouTube E io li devo rispettare Però se raggiungiamo mille like Io posso sempre fare il video tutorial E lo carico da un'altra parte Così anche voi potete vedere come scaricare la mod Quindi vi raccomando Se volete il video tutorial su come installare la mod di Cyber Hacker Di Escro in 5 Lasciate mille like qui sotto Ma adesso direi di partire qua Tanto il filmato l'abbiamo visto Mentre parlavo C'era il filmato di inizio che andava avanti Ed eccoci qua Arrivati all'interno della sala macchine Allora, già qui all'interno di questo gioco Ci sono molti segreti, no? Che abbiamo già visto nei primi due capitoli Innanzitutto per quanto riguarda i frigoriferi Qui ne vediamo proprio uno, no? Che compare proprio durante la partita Andiamo di qua Sperando di non beccarci nessun mini roddino C'è qualche mini roddino qua? No, non c'è nessuno Meno male, meno male Sali, sali, sali Personaggio Ed eccoci qua Siamo nella centrale idroelettrica Il posto dove viene convertita l'energia dell'acqua In energia elettrica Che viene poi utilizzata all'interno della fabbrica Già qui dentro comunque possiamo notare Un primo frigorifero Che è questo qua Il frigorifero di Rod Che sta dietro qua Noi lì dentro ci possiamo soltanto accedere Se ci facciamo prendere da Rod una volta Però fortunatamente qui con la mod Ho il new clip Possiamo andare direttamente qua E possiamo già scoprire in questo momento Che cosa si nasconde qui dentro Allora vediamo qua innanzitutto su Esprim 5 Che cosa nasconde il frigorifero Proviamo a vedere Ed ecco qua Ma scusate Ora io non vorrei dire Non vorrei dire Ma questo è un frigorifero con dei ripiani Guardate qua Ma ci sono dei ripiani Posso anche spingerlo A posto Posso anche spingerlo Cioè vorrei vedere dopo che cosa succede Se provo a farmi prendere da Rod Con il frigorifero spinto Cioè guardate qua Ma come fa Ma ci sono gli scaffali qua dentro Ma come fa Mike Ad essere qua nel frigorifero Ma è impossibile sta cosa È impossibile Ma che roba Ma che roba No vabbè Bellissima sta cosa Facciamo una cosa Togliamo il new clip Andiamo su Monster Menu O da qualche parte Insomma facciamo venire Rod da questa parte In modo che lì ci possa venire a prendere Sempre se riesco a vedere qualcosa Ok Teletrasporta Rod qui da me Dov'è Rod? Ma dov'è? E perché sono bloccato? Ma eccolo Rod Guardatelo qui Ma che roba Teletrasportato qua dentro Teletrasportato di qua Allora Rod Venimi a prendere va Ho tolto Togliamo qua il Tutto quanto Perfetto Vieni qua caro gelataio No no seriamente Sono curioso di vedere Com'è adesso la scena Di quanto Rod ci porta nel frigorifero Che tra l'altro pure lui stesso È chiuso lì dentro Pure lui stesso È chiuso qua Vorrei capire adesso Se lui spawna lì Oppure l'hanno spostato Proviamo a vedere Cioè E guardate Il frigorifero è tornato lì Come fa ad uscire Mike Se lì ci sono gli scaffali In sto frigorifero Come fa a starci A meno che Rod non ci abbia chiuso lì a fette Ma È impossibile sta cosa È veramente impossibile No no Allora rimettiamo quel noclip Magari è cambiato qualcosa No guardate Ma ci sono gli scaffali Ci sono gli scaffali qua Ma com'è possibile Ma come fa a Rod a buttarci qua dentro Come fa Ma che roba Ma che roba Vabbè Tanto qua abbiamo il noclip Ce ne andiamo subito subito via Possiamo già muoverci Allora Per quanto riguarda comunque questa zona A parte sto frigorifero buttato lì Non è che ci sono tanti segreti Sì no in realtà ci sarebbe ancora il ricordo di Rod Che sta qua dentro Se notere meglio ad esempio i quadri no Le varie scene Questo è un quadro dove fa vedere non so Il posto dove Rod Junior Andava a pescare con suo padre Quindi Rod era pure un bravo pescatore Sapeva pescare Qui dentro invece vediamo altre foto Come la casa di Rod del passato Qui dentro ci sono altre cose Negli scatoloni Proviamo a vedere No gli scatoloni pare che siano vuoti Li vedo vuoti questi scatoloni Come ho fatto ad uscire di qua Se stavo da questa parte Allora no niente Non ci sta nulla negli scatoloni Tutto quanto vuoto Tutto vuoto Vediamo di qua Ma qui c'è pure un condotto Ah vabbè Un condotto così Non lo so Forse si collegherà più avanti Con un'altra parte della fabbrica Ma qui per il momento Non vediamo nulla di particolare Poi comunque L'altra parte segreta Che questo praticamente È il segreto Che ci portiamo avanti Direttamente Da Ice Cream 4 In poi E la famosa stanza di estrazione Qui dentro Cosa ci sarà mai Tra l'altro Nel filmato di Game Over Noi possiamo vedere appunto Due situazioni che si possono verificare O quella dove Rod ci porta All'interno della stanza Per estrarci Oppure dove ci chiude All'interno del frigorifero E se il frigorifero del Game Over Fosse appunto Quello della cucina Che vedremo su Ice Cream 6 Mamma mia Ma andiamo direttamente Verso quel frigorifero No Perché si trova E qua sto frigorifero Del Game Over Basta scendere E lo raggiungiamo In due secondi No in realtà un po' di più Perché ci ho messo più di due secondi Ed eccolo qua finalmente Il frigorifero Del Game Over Ma che roba Ma che roba Chissà cosa c'è dentro Chissà cosa troveremo Qua dentro Forse troveremo I gelati segreti di Rod I gelati segreti di Joseph Proviamo a vedere Che cosa si nasconde Sono veramente curioso Effettivamente Non sono ancora entrato Dentro sto frigorifero Ancora non l'ho fatto Insieme a voi Cioè ci venevo qui davanti Ma non c'entravo mai Adesso finalmente Possiamo aprire E scoprire Che cosa si nasconde 3, 2, 1 Ed entriamo Voilà Niente No non c'è niente Anche qua Ma che frigoriferi Ma caro Rod Ma tu ti compri I frigoriferi E poi li lasci vuoti Ma almeno mettici qualcosa Ma mettici qualcosa Lì dentro Cosa si compra Sti frigoriferi Che poi li lascia vuoti Ma ma seriamente Non è un consumo Di corrente elettrica No Prendere sto frigorifero Non metterci nulla Lasciarlo acceso Si consuma la corrente Comunque adesso Bisognerà capire un'altra cosa All'interno della cucina Quanti frigoriferi Troveremo Ci sarà soltanto Un frigorifero Come quello del game over Un frigorifero Quello che abbiamo visto All'interno dell'immagine Oppure ce ne saranno di più No perché effettivamente Se noi ci pensiamo Se una grande cucina Dovrebbe avere più frigoriferi Cioè io in cucina Ho il frigorifero Quindi effettivamente I cibi da qualche parte Vanno pure conservati Che siano cibi Ingredienti Insomma Cose che vanno tenute al fresco Ma ci sarà soltanto Un frigorifero O ci sarà altro No perché qua Su Ice Cream 5 Abbiamo conosciuto Anche qualcos'altro No Molto simile ad un frigorifero Il freezer E il freezer si trova di qua Aspettate Lo raggiungiamo subito Eccolo qua Un altro freezer Dove qua Praticamente Ora come ora Non ci sta nulla Anche questo è vuoto A parte sto cubo di ghiaccio Che anche qua Non è per dire Caro Rodino Ma tu vai a consumare La corrente elettrica Di un freezer Per congelare una valvola Ma perché vai a fare Ste cose Caro gelataio Ma perché E poi ci credo Che c'è a B-Boy Che scappano subito E ci credo Tu fai ste cose così a caso Ci credo Che per la gente Se ne scappa Comunque qua c'è Uno dei freezer Dove A parte sto cubo di ghiaccio Non è conservato Niente di niente C'è pure un altro freezer Collegato invece Con i ricordi Che vediamo invece Da quest'altra parte Perché sono andato di qua Ma perché Allora andiamo di qua Veloce 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 Andate a quest'altro lato Muoviamoci E qui dentro All'interno della discarica Si trova uno dei freezer Dove c'è appunto Uno dei ricordi di Rod E qui infatti Dove vediamo appunto Rod Che parla con suo padre No Questo comunque Non è un classico freezer normale Che si trova buttato Così a caso Questo era il freezer Dove era conservato Il gelato speciale Di Joseph Sullivan Quello che Rod Ha mangiato Che l'ha trasformato In un chubby boy Mamma mia Rodino però E c'è scritto qua Non toccare Don't touch Vuol dire che non dovevi toccare Perché Rodino caro Si è andato a toccare Sto freezer Perché Por me non so neanche più Come chiamarlo Se chiamarlo Rod O Elisa Perché comunque Sono la stessa persona O Gammy Beh comunque Se ci pensiamo Rod E la reincarnazione Di Elisa Ma Elisa Prima di finire nel corpo Di Rod Era dentro il corpo Di Gammy Quindi comunque Rod è anche il pollo Mutante Gammy Di Volnand 2 Cioè veramente È confusionare Sta cosa Non seriamente Una trama più articolata Di questa Non l'ho mai vista In tutta la mia vita Dobbiamo anche considerare Una cosa All'interno di questa fabbrica Ci sono tanti tubi Che vanno quella Che si spostano quella Cioè ad esempio Il tubo che ci fa arrivare Dall'altra parte Noi della fabbrica Ci sono anche qua Altri tubi che portano Non so dove Ma anche se noi Siamo fuori Possiamo notarne un sacco Proprio all'esterno Della fabbrica In particolare Qui davanti Muoviamoci 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 Ed ecco qua Qui ci sono altri Bei condotti Che sono collegati Alla fabbrica Che chissà se sono collegati All'interno della cucina Oppure no Beh se la cucina Si trova da questa parte Questo tecnicamente Sarebbe lì Collegato sempre di là Beh per il momento Non lo possiamo sapere Lo scopriremo più avanti In futuro Bisogna anche capire Se poi sempre Questa grande cucina Sarà collegata Con la maschera Nel piano superiore Comunque adesso Prepariamoci Perché finalmente Proveremo a scoprire Che cosa c'è All'interno del frigorifero Segreto Di Ice Cream 6 Quindi passiamo direttamente All'immagine Ed eccola qua L'immagine del frigorifero Segreto Che tra l'altro Dobbiamo fare molta attenzione Bisogna capire Se questo qua Sarà o il frigorifero Dove è quando Charlie viene preso da Rod E quindi esce direttamente lì Come è successo appunto Con Mike O c'è qualche passaggio segreto O qualche stanza segreta O qualche oggetto segreto Ma adesso proviamo a vedere Proprio con calma Ogni singolo step Che potrebbe esserci Se fosse ad esempio Il frigorifero dove Charlie viene chiuso Quando viene catturato da Rod Beh Sarebbe semplicemente come Su Ice Cream 5 Quando Mike viene preso E catturato Charlie uscirebbe da questo lato E se ne andrebbe subito via No Però comunque La cosa che mi tiene sospetto Appunto Questo cartello Che ho scritto Danger Cold Area Quindi Area fredda Fai attenzione Qui dentro Quindi potrebbe trovarsi Anche semplicemente Un oggetto Comunque Come abbiamo ben visto Ad esempio Su Ice Cream 4 C'era quella teca segreta Con una caramellina dentro Che ancora non si sapeva Che cosa fosse C'era un tipo Tante teorie No Di gente che diceva C'è la pozione Per diventare normale La pozione Per far quello Un oggetto segreto Invece alla fine C'era una caramellina Appiccicosa Che serviva Per montare la trappola E beh Effettivamente Una roba del genere Potrebbe esserci anche qua Su Ice Cream 6 No Magari qui dentro C'è un oggettino Da prendere Per poter fermare Definitivamente Il robot della sicurezza Della cucina Chi lo sa Oppure potrebbe esserci Anche un passaggio segreto Lì dentro magari Si trova un passaggio Per poter arrivare Verso un punto Potrebbe essere anche Sapete che cosa La porta ad aprire Per poter concludere Il gioco Come ben sappiamo Ad esempio Su Ice Cream 5 Quando avevano pubblicato Una delle prime immagini Avevano messo a punto L'immagine della sala macchina Dove si intravedeva Ciò che c'era da fare Per poter completare il gioco Quindi la parte Con le valvole Può darsi che Dentro quel frigorifero Si trovi direttamente Il tunnel Per poter far ricongiungere Charlie con gli altri amici Chi lo sa Oppure potrebbe trovarsi Una stanza segreta Una stanza molto fredda Quindi magari Dovrebbe essere veloce Potrebbe esserci un minigioco Dove noi dobbiamo essere rapidi Per recuperare subito qualcosa E andarcene via 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 Chissà Lo scopriremo molto molto presto Sono comunque curioso Di sapere le vostre teorie Che cosa ne pensate Riguardo questo frigorifero Molti di voi Comunque già me le hanno scritte Sono state teorie Molto molto interessanti Quindi mi raccomando Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa potrebbe essere Quel frigorifero Secondo voi Magari un semplice frigorifero Così da aprire un attimo Oppure potrebbe essere Il passaggio Per qualche posto segreto Il video finisce qua Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buona giornata Buona serata Buonanotte Ciao a tutti Buonanotte Buonanotte Grazie a tutti